Sono pronti a rivolgersi direttamente alla Prefettura di Pescara, i cittadini e i titolari degli esercizi commerciali e delle attività che vivono la quotidianità di Via Reale, dominata da quel carressa dell'ex cementificio, divenuto rifugio di disperati e covo di criminali. Strade rotte, marciapiedi impraticabili e sporcizia, ma soprattutto un disarmante senso di abbandono infestano la periferia di Pescara al confine con San Giovanni Tiatino. Paola Avione, direttrice dell'agenzia di formazione NXS che insiste su Via Reale, esattamente cos'è che vi preoccupa? Purtroppo vediamo tante persone che hanno bisogno di aiuto, nel senso che sono veramente in condizioni pessime, alcune soggiornano all'interno dei stabili del cementificio, il cementificio è diventato anche un luogo in cui c'è grande vandalismo, fissi, rotti, materiali che vengono portati via, diventa per chi risiede qui, chi abita qui, chi lavora qui, veramente una situazione insostenibile. Tenendo conto che noi che siamo operatori qui riceviamo anche un pubblico e quindi mettere in pericolo anche altre persone che vengono qui perché hanno bisogno di servizi sicuramente non è una cosa che può far bene a nessuno. Cosa state facendo per cercare di far fronte a questo problema? Noi stiamo informando le autorità, le istituzioni, il comune, le forze dell'ordine, informiamo chi di dovere, ma al momento non abbiamo visto ancora nessun risultato, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno e io penso che il tempo sia sicuramente una cosa su cui intervenire, c'è bisogno di tempestività. La criminalità nel quartiere sarebbe aumentata dopo l'abbattimento del ferro di cavallo a Rancitelli che anziché risolvere il problema lo avrebbe solo spostato, inducendo criminali e disperati a occupare lo scheletro del vecchio cementificio in abbandono, come denunciano ancora i cittadini. Cristiano Canale, titolare del bar Trattoria La Nuova Torretta. Da diverso tempo abbiamo vari problemi riguardo alla sicurezza. Noi nella fattispecie in due giorni abbiamo avuto due spaccate nel nostro locale, cosa che nei tempi addierro non si era mai vista perché effettivamente è sempre stata una zona di lavoratori abbastanza tranquilla. Però da quest'estate, quando c'è stato l'abbattimento degli edifici al ferro di cavallo, abbiamo notato proprio un incremento di gente, definiamola in difficoltà, di gente abbastanza problematica che si aggira nei paraggi del nostro locale e della zona di Via Raiale. Ci sentiamo un po' minati nella sicurezza che finora è stata una caratteristica di questa zona. State preparando anche una lettera per chiedere aiuto al prefetto, cioè di intervenire? Sì, stiamo raccogliendo le firme tra i residenti e anche tra i titolari delle aziende di questa zona perché vorremmo segnalare alle autorità competenti che la situazione è veramente insostenibile. Speriamo che questa sollecitazione venga raccolta e qualcuno intervenga il prima possibile. Ultimamente abbiamo notato che anche nell'ex canile queste persone si fanno a rifugiare di notte perché trovano zona franca per le loro attività e per avere un posto in cui dormire indisturbati. C'è chi riferisce addirittura di aver visto gente uscire anche dal cementificio con parti della stessa fabbrica ormai dismessa? Sì, di fatto il cementificio lo stanno demolendo, quindi forse sarebbe anche il caso che la proprietà intervenisse in qualche modo per tutelarsi da questi episodi.